Matteo Messina Denaro, minuto per minuto, tre scatti diffusi dal Rosso dei Carabinieri, lo ritraggono mentre firma i verbali del suo arresto il 16 gennaio scorso, dopo essere stato fermato alla clinica Maddalena. Il super boss che non parla nei primi interrogatori, l'ex latitante che tace sulle stragi mafiose, però a quasi due mesi dalla storica cattura, è ancora al centro delle cronache e dell'attenzione mediatica. Sarà anche protagonista di un film sulla sua vita, che non è il caso di definire mitologica, ma semplicemente criminale. Bambù Production di Marco Belardi ha acquistato i diritti del libro, Usicu di Lirio Abbate, al cinema vedremo gli effetti collaterali dell'esistenza del mafioso dei mafiosi, le amanti, le notti palermitane, la vita spericolata tra viaggi e lusso, ma anche il lato oscuro e quello che oscuro non è stato, quanto meno per quello che ha comportato il ruolo di primo piano nelle stragi degli anni 90, i suoi affari con la politica e la massoneria, l'imprenditoria, quanto basta per comprendere, se ce ne fosse ancora bisogno, l'importanza della sua cattura.